In Questella replica Renzi sui rimborsi ai partiti e rilancia sulla legge elettorale e bisogna ritornare al Mattarellum. La stessa ipotesi lanciata ieri anche da Berlusconi. Sentiamo Sonia Sarno. Noi restituiamo i soldi ma lettano li dalle imprese. Dal suo blog Beppe Grillo torna ad attaccare il Premier e denuncia l'esistenza di oltre 2 milioni e mezzo di euro ancora bloccati e che invece dovrebbero essere destinati alle piccole e medie imprese. Soldi ricavati dai tagli a stipendi e diari e dei parlamentari grillini. Secca replica dei 5 Stelle anche a Renzi su rimborsi elettorali e riforma del voto. È comprensibile che Renzi dopo aver sentito che il Movimento 5 Stelle ha restituito 42 milioni di euro pensi di dover chiedere a noi l'autorizzazione per restituire i 45 milioni che il suo partito è intascato. In realtà quei soldi sono dei cittadini, non può barattarli con nessuna legge elettorale, con nient'altro e con nessun altro. Forza Italia.